Si presenta sul dischetto per calciare il primo rigore Realizza il calcio di rigore Pallone sul dischetto Ha sprecato tutto con questo rigore Sai che l'ha colpita davvero male Che errore, palla sul fondo Lo sai perché Pier? Perché ha calciato il rigore con paura Non era sicuro Niente da fare per il portiere È pronto per calciare E sbaglia il cucchiaio Ma l'idea era anche buona L'esecuzione è decisamente meno Conclusione centrale Spiazza il portiere Ha rischiato, se fosse rimasto fermo L'avrebbe sicuramente parata C'entra in piedi il palo, incredibile È esagerato, ha angolato troppo la conclusione Con questo calcio di rigore può regalare la vittoria alla sua squadra Ha calciato malissimo Facile per il portiere Il portiere ringrazia Non ha dovuto nemmeno impegnarsi più di tanto Conclusione che finisce sul fondo È finita Aveva una grande responsabilità Purtroppo per lui è sbagliato Purtroppo per lui è sbagliato Per il portiere A suonso down Io sono vinrito In va bene Grazie a tutti.